Che anno è? Che giorno è? Questo è il tempo di vivere con te Lazio ha vinto e siamo contenti E poi ancora c'è l'immensi e immenso amore E poi ancora, ancora, ancora amore per te Ciao a tutti ragazzi e buona vista al vostro ectorelio della Pegna Balbuena E sbindosa del Santiago del Coppostera in spagnolo Ragazzi abbiamo vinto, allegria Ci abbiamo fatta, grande vittoria di Champions League di Lazio Che la strappa contro il Borussia Dortmund Incredibile, in un primo tempo fenomenale Con la F maiuscola Siamo forti Vabbè scherzavo, scherzavo dai Però siamo stati fenomenali Immobile, autocoll di hits Poi hanno segnato quell'Olande schifoso E poi ha segnato Gian Daniel Akpa Akpro Ak, Akpa Akpro Grandi ragazzi, siamo contentissimi Però non ho vinto la scherzina perché Purtroppo il Paris Saint Germain ha perso Manneggia la puttana Quello Paris Saint Germain ha puttana Manneggia poca puttana Vabbè dai, d'accordo Però siamo contentissimi Partita dominata totalmente Lascio che Da appunto subito si dimostra La favorita sul campo Che insomma Una migliore in campo Attaccando sempre Avendo più occasioni per chiuderla Più volte nel primo o nel secondo tempo E alla fine ce l'ha fatta Quindi a presto il vostro Hector Elio Della Pegna Valbuena E Spindosa De Santiago De Compostale Spagnolo Ragazzi Allegria E buona la prima